3 liste, 2 di centro-destra, 1 di centro-sinistra, sono state depositate oggi in vista delle elezioni provinciali di Campobasso, 83 comuni al voto. Entro la fine del 2018 il programma di sviluppo rurale 2014-2020 sarà attuato al 41% in evidenza le difficoltà burocratiche che ostacolano le imprese. Prevista per domattina la protesta degli studenti della regione Corteo a Campobasso per contestare il caro prezzo dell'istruzione e le tante scuole fatiscenti del territorio. Restano al Parco Ungaretti di Campobasso l'incuria e l'abbandono, solo una parte dello spazio è stata ripulita dai sostenitori di Fareverde. Ben trovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di Tieletti Molise. Presentate in mattinata le liste per le elezioni indirette del Consiglio provinciale di Campobasso che si terranno il prossimo 31 ottobre. È favorito il centrodestra che schiera due liste contro una sola vicina al presidente in carica Antonio Battista che resterà a capo di Palazzo Magno per altri due anni. La provincia di Campobasso è sempre più in difficoltà a livello finanziario e impossibilitata a garantire i fondi necessari per il ripristino e la messa in sicurezza delle arterie stradali su buona parte del territorio. Si appresta a rinnovare gli organi del Consiglio di Palazzo Magno, ad eccezione del presidente Antonio Battista che resterà in carica per altri due anni. Sindaci e amministratori comunali saranno chiamati al voto il prossimo 31 ottobre. In mattinata sono state presentate le liste, 29 e i candidati in tutto distribuiti in tre liste, due vicine all'area del centrodestra contro una sola lista di centrosinistra. Con ogni probabilità l'attuale presidente dell'ente di Via Roma si ritroverà a capo di un consiglio, composto in maggioranza proprio da esponenti del centrodestra. Area politica in cui emerge sempre più il dualismo tra la fazione vicina al governatore Donato Toma e quella legata all'asse De Matteis Iorio Pallante. La prima lista è denominata Insieme per la provincia e vede al suo interno dieci candidati, tra i quali spiccano i consiglieri comunali di Campobasso, Maria Laura Cancellario e Alessandro Pascale. Oltre all'ex Italia dei Valori, Simona Contucci. Ci sono anche Michele Marone e Maria Cristina Spina, quest'ultima moglie del consigliere regionale Gianluca Cefaratti. L'altra lista di centrodestra, provincia amica, schiera tra gli altri il sindaco di Torella del Sannio, Antonio Lombardi e l'esponente di Palazzo San Giorgio, Enrico Perretta. Nella lista di centrosinistra, Cives, provincia democratica, sono nove i candidati, tra cui i consiglieri di maggioranza al comune di Campobasso, Giovanna Viola e l'uscente Peppe Delia. Oltre ai due esponenti della maggioranza al comune di Termoli, Antonio Giuditta e Vincenzo Sabella. In campo anche il vice sindaco di Montefalcone nel Sannio, Gigino D'Angelo, l'assessore al comune di Guglionesi, Pino Aristotele e il consigliere comunale di Larino, Giulio Pontico. E nessuna lista della Lega alle prossime provinciali di Campobasso, dito puntato contro il coordinatore regionale Luigi Mazzuto da parte del coordinatore cittadino di Santa Croce di Maiano Tosino, che nella circostanza ha rassegnato le dimissioni, sollecitando lo stesso Mazzuto a lasciare la giunta regionale, non essendo in grado di tutelare e rappresentare gli iscritti. Il presidente del consiglio di Palazzo d'Aimmo, Salvatore Micone, è sempre più nel mirino per le nomine dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni. Più di un'ombra emergerebbe in particolare sulla designazione di Fabio Talucci. Critiche a Micone arrivano da Osso Stampa, 5 Stelle e Lega. Continua a far discutere la nomina dei nuovi componenti del Comitato regionale per le comunicazioni. La mancata designazione di un esperto del settore o di un giornalista, in un momento particolarmente delicato per il settore dell'editoria, ha scatenato una dura presa di posizione da parte dell'Asso Stampa e dello stesso ordine dei giornalisti. In particolare più di un dubbio emerge in relazione alla nomina di Fabio Talucci al vertice del Comitato per una presunta incompatibilità dovuta a una denuncia presentata anni fa dallo stesso Talucci nei confronti di un organo di stampa locale, elemento quest'ultimo che secondo l'Asso Stampa configurerebbe una chiara incompatibilità col delicato ruolo di garante delle comunicazioni, interrogativo sul quale è stato chiesto al presidente del consiglio regionale, Salvatore Micone, artefice delle nomine, di fornire le dovute spiegazioni. Intanto la vicenda sta scatenando un vero e proprio terremoto anche a livello politico. Il Movimento 5 Stelle, su iniziativa dell'onorevole Antonio Federico, ha inviato una nota informativa all'Agicom. La segnalazione, ha spiegato Federico, servirà a chiarire se le nomine rispettano il principio dell'assoluta indipendenza dal sistema politico istituzionale e dal sistema degli interessi di settore nelle comunicazioni. Molti, dichiara il portavoce del Movimento, hanno segnalato che il nuovo presidente del Corecom è stato assessore e vicepresidente della provincia di Campobasso, proprio negli anni in cui anche Salvatore Micone era assessore provinciale nella stessa giunta. È evidente, denuncia in proposito Federico, che le logiche seguite per queste nomine non garantiscono che il Comitato possa lavorare al meglio sul territorio, né garantiscono competenze specifiche e serenità di valutazione e lontananza dalla politica. Mi riservo altre iniziative, conclude il parlamentare, per accertare l'assoluta indipendenza delle scelte effettuate e per accertare inoltre se sussistano o meno tra il presidente Micone e le figure disegnate, eventuali rapporti personali o familiari avuti o in essere. Ma è anche una parte della stessa maggioranza a contestare apertamente l'operato del presidente dell'Assemblea di Palazzo Daimmo, su tutti la consigliera della Lega, Ida Romagnuolo. Noi amministratori regionali dobbiamo essere diversi dalla vecchia politica perché siamo stati scelti dai cittadini molisani. Anche perché il settore della comunicazione, come lei ben sa, non passa un bel periodo, diciamo, la crisi dell'editorio ormai è una crisi profonda. Secondo lei la regione che risposte può dare anche alle imprese è tenuto conto che dal governo centrale, purtroppo, è arrivata una risposta che il settore non si aspettava qui in Molise? Certo, il settore dell'editoria molisana delle emittenti televisivi è stato già penalizzato purtroppo col decreto mille proroghe che hanno visto le nostre testate giornalistiche dei emittenti che non hanno potuto soffrire dei contributi statali. Quindi io credo che la regione Molise debba intervenire, così come fa anche con altre aziende private e deve sostenere, deve dare un contributo maggiore alle nostre emittenti. Per furto aggravato due donne e quattro uomini sono stati denunciati dai carabinieri di Larino all'interno di un ristorante frentano. Approfittando della distrazione di un cliente hanno sfilato il portafogli dalla giocca appesa alla sedia impossessandosi di 60 euro. Il malcapitato, accortosi poco dopo dell'accaduto, si è rivolto ai militari che hanno così identificato le sei persone residenti sia a Santa Croce di Maiano che a San Giuliano di Puglia. E non potranno tornare a Disernia per tre anni le persone arrestate lo scorso 18 settembre dalla polizia per la rapina ad un anziano disabile. Due uomini ed una donna, tutti di Pescara, sono stati infatti destinatari di altrettanti fogli di via obbligatori con divieto di ritorno in città. E contrasto al fenomeno dell'uccisione di animali attraverso bocconi avvelenati lasciati in paesi e in campagna, indagini serrate da parte dei carabinieri. Cani e gatti, vittime dei bocconi avvelenati collocati dai gnoti nelle aree rurali e nei centri abitati della provincia Pentra, fatti che di recente hanno scosso le comunità interessate che hanno impegnato le forze dell'ordine nel contrastare l'allarmante fenomeno. Dopo un primo incontro alla prefettura di Isernia, oggi una conferenza stampa al comando Pentro dei carabinieri. Queste esche che avete molto modo di vedere, non solo si trovano nelle zone rurali, ma abbiamo avuto riscontri che vengono lasciati anche nelle zone abitate e in alcuni casi nelle zone frequentate dai bambini. Per cui in questo caso, quando si vedono questi oggetti strani, queste sostanze strane che sono bluastre, la prima cosa da fare è non toccarle ovviamente, poi chiamare il 112 o il 1515 dei carabinieri forestali di Isernia, che poi interverranno e metteranno in funzione il meccanismo, attraverso anche l'ausilio dei veterinari, per poter individuare e localizzare le esche e quindi neutralizzare il pericolo. Una problematica approfondita anche dal dottor addolorato Ruberto, dirigente dell'Istituto Zoo Profilattico Abruzzo e Molise. Ultimamente la presenza di veleni è più diffusa nelle rivendite agricole soprattutto e che ritroviamo nelle esche oppure negli animali avvelenati, si tratta soprattutto di metaldeide, di pesticidi organoclorurati e pesticidi organofosforati, di carbamati, di anticoagulanti. In passato c'erano altre sostanze molto più diffuse, ad esempio era la striclina, era il fosforo di zinco. Diciamo che negli ultimi anni queste sostanze non sono più presenti in commercio. Anche in Molise furti in campagna, fenomeno cresciuto negli ultimi anni per la Coldiretti regionale, non si tratta più dei vecchi ladri di polli ma di veri e propri criminali che spesso mettono a segno raid notturni capaci di inginocchiare un'azienda, specie se di medie o piccole dimensioni. Di questo problema se ne è discusso con vari rappresentanti delle istituzioni che hanno invitato gli imprenditori che subiscono furti a rivolgersi con fiducia alle autorità di pubblica sicurezza. Il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, oggi a Campobasso in visita al comando regionale Molise, è stato accolto dal generale Carlo Ricozzi e dal generale Antonio Marco Appella. Durante l'incontro portati all'attenzione i risultati operativi conseguiti e le tematiche attinenti al personale e alle strutture logistiche dei reparti, il generale Toschi ha deposto anche una corona dall'oro al monumento dedicato alla memoria del finanziere molisano Antonio Zara, caduto nell'adempimento del dovere il 17 dicembre del 73 ed insignito della medaglia d'oro al valor militare. Odierna sessione del Comitato di Sorveglianza sul programma di sviluppo rurale 2014-2020, entro il 31 dicembre di quest'anno il livello di attuazione del programma sarà del 41% mentre la spesa sostenuta ha raggiunto il 23%. Tuttavia sussistono difficoltà legate in particolare all'eccessiva burocrazia che ostacola le imprese. Assessore Cavaliere, seduta del Comitato di Sorveglianza sul piano di sviluppo rurale. Un piano di sviluppo rurale che va in controtendenza rispetto alle criticità che si sono riscontrate soprattutto sull'utilizzo dei fondi comunitari. Cosa vuol dire questo? Noi abbiamo impiantato una struttura di assistenza tecnica sin dal 2008 quando ebbi la delega l'agricoltura col precedente piano di sviluppo rurale e devo dire che questa struttura ha dato il valore aggiunto affinché in tutti e due i piani si potesse avere un riconoscimento così sottolineato in maniera positiva da parte della Commissione europea. Un dato di spesa che va in controtendenza rispetto ad un disimpegno e quello che è stato sicuramente molto orgoglioso da parte mia ascoltare il Commissario che ha dichiarato che con questo modus operandi e con questa struttura sicuramente anche sul prossimo piano di sviluppo la Regione Molise rimarrà in cima alle regioni come situazione virtuosa ma anche e soprattutto senza alcun problema di disimpegno della spesa. Cosa si può fare secondo lei per venire incontro anche in modo maggiore alle esigenze delle piccole aziende e anche dei giovani che vogliono intraprendere le attività imprenditoriali in agricoltura? Guardi qui c'è un problema solo, semplificare e sburocratizzare. Le aziende non ce la fanno più, è a seguire una pratica che ha una vita di un anno quando potrebbe essere risolta nell'arco di 4-5 mesi, di essere sempre in continuo contatto con la struttura per richiesta, documenti, chiarimenti, magari ricorsi gerarchici. È una vita che io mi immedesimo nelle aziende e non è sostenibile. Io mi auguro di poter rendere la vita un po' più facile agli imprenditori agricoli che non hanno certamente la certezza del guadagno perché dipendono dalle condizioni climatiche, dipendono dalle stagioni e quindi rischiano di giorno in giorno la propria attività. Rispetto a questo l'impegno c'è tutto, c'è il mio, c'è quello del governo regionale e su questo ci confronteremo. Il partito della rifondazione comunista del Molise esprime tutta la sua vicinanza e solidarietà agli operai della gamma costretti a scegliere tra contratti a ventizi presso l'incubatoio di durata semestrale con retribuzioni da fame e la proroga per un anno della cassa integrazione, restando ugualmente senza prospettive durature. L'auspicio è che le organizzazioni sindacali vogliano dar vita ad iniziative di lotta rispondenti alla gravità della situazione tese e a restituire una prospettiva stabile di reddito e di vita ai lavoratori e alle popolazioni dell'area matesina. La speranza che il settore tessile e molise riparta concretamente c'è, intanto resta la protesta degli ex lavoratori ITR e di alcuni fassonisti, tutti in assemblea permanente ad Isernia. Emilio Rizzo, l'assemblea permanente ancora una volta e stavolta qui in tribunale. Parliamo degli ex lavoratori ITR, difficoltà, progetti, promesse, mancate promesse? C'è un po' di tutto, ovviamente sarà permanente questa assemblea fino a quando non vedremo soddisfatte le nostre esigenze e le nostre richieste, che sono ormai chiare, quelle di avere gli ulteriori cinque mesi di mobilità che pare siano stati sbloccati in qualche modo ma la procedura deve essere ancora avviata. Parliamo di un 40% spettante agli ex lavoratori derivanti dalla vendita che si è fermata a un certo punto e chiederemo al giudice come mai si è fermata e come andare avanti e come soddisfare nell'immediato questo tipo di esigenze, viste che piaccia o non piaccia all'interno di quell'azienda alcune persone ancora ci stanno. A che titolo ci stanno vorremmo anche per capirlo, perché se devono essere pagati loro allora è meglio pagare gli ex lavoratori che il lavoro lo hanno già fatto e aspettano i soldi. C'è il terzo aspetto invece, quello fondamentale, che questi lavoratori non chiedono elemosine, chiedono lavoro e per questo il lavoro se lo sono inventati. Mobilità sì, tempi strettissimi, ma progetti in campo. Si è parlato di progetti per lavori socialmente utili o di pubblica utilità o per province, regioni e comuni? Ecco, noi invece abbiamo proposto una strada sicuramente migliore, perché i lavori socialmente utili sono quelli che mettono sui cantieri, per dirla in parole semplici, alcuni ex lavoratori o altre persone, perché non è detto che siano soltanto ex lavoratori, per 4, 5, 6 mesi gli danno una cifra errisoria, dopodiché è finito. Ecco, questo non crea lavoro. Noi invece con le stesse somme da autogestirsi ci occuperemo di beni culturali, di sviluppo del patrimonio turistico, ambientale, eccetera, faremo valorizzazione e dimostreremo che queste persone adeguatamente formate, perché c'è anche la possibilità di formarle, potranno riavviarsi nel mondo del lavoro senza chiedere niente a nessuno e senza avere né redditi di cittadinanza né regalie che dir si voglia. Terminare gli studi oggi è un lusso per pochi, il 47% dei ragazzi molisani spende tra i 400 e i 800 euro l'anno per frequentare le scuole superiori, il 14% sfiora i 1000 euro, gli istituti poi sono spesso fatiscenti. Bisogna ripensare ad un piano di investimenti sull'istruzione ed evitare che i giovani abbandonino il territorio. Per questo e tanto altro è previsto per domattina il corteo degli studenti molisani. La partenza alle ore 9 dal terminal bus di Campobasso. Nel nostro focus settimanale in onda, in serata e in replica domani alle 15.30 e sabato alle ore 21 si parla della situazione complessiva del comparto della scuola e dell'università nel Paese e nel Molise con gli ospiti Giuseppe Lafratta e Paolo De Socio della Federazione Lavoratori della Conoscenza. Il dato drammatico dell'ospopolamento scolastico, ma è una regione che è in forte rischio demografico, il dato dell'università chiaramente non conforta. L'apice degli studenti c'è stato nell'anno accademico 2006-2007 con 10.677 studenti, il dato dello scorso anno si agitava intorno ai 7.048-7.050 studenti. Io credo che ci sia una necessità fondamentale di ritrovare veramente i luoghi della discussione in questa nostra regione per provare a dare un'inversione di tendenza prima di tutto a questo dato, creare le condizioni partendo anche dai settori nostri, quelle della conoscenza, ma vi permetto di dire quelli del welfare sociale, quello fondamentale del lavoro, perché ci si torni a poter vivere in questa regione. Noi dobbiamo ricostruire alleanze, dobbiamo fare in modo che nelle scuole, e perciò è importante che noi che siamo i lavoratori della conoscenza costruiscano un'argine rispetto a queste derive, perché indignarsi, dire che non si è d'accordo, urlare a volte il proprio disappunto in questi contesti è fondamentale, così com'è fondamentale lanciare un messaggio di solidarietà in questa fase a Mimmo Lucano, come ha detto Paolo, perché a prescindere da quelle che possano essere le indagini della magistratura, il messaggio che proviene da Riace, di un modello di integrazione possibile, non deve essere arrestato. Un'agenda per le aree interne, capace di sviluppare e rafforzare le strategie di intervento nei territori dell'Europa che più ne hanno bisogno, se ne discuterà domattina dalle ore 9 al Circolo Tennis di Campobasso, nell'ambito del Seminario L'Europa dei Cittadini, 10 proposte sulle aree interne. L'assessorato regionale ai trasporti intende condividere con i vertici dell'ANAS le soluzioni più idonee per migliorare la sicurezza delle principali strade provinciali. La viabilità provinciale in Molise ha raggiunto livelli di insicurezza preoccupante per l'annosa mancanza di manutenzione ordinaria e i numerosi dissesti idrogeologici. L'amministrazione regionale cerca soluzioni urgenti e alternative a braccetto con il compartimento ANAS. Mi sono trovato con una disparità tra provincia di Campobasso e provincia di Sende abbastanza sostenuta, cioè parliamo di 141 km che prenderà in trasferimento sulla provincia di Campobasso l'ANAS il primo ottobre e in provincia di Sende ha poco più di 8 o di 9 km. Quindi non riuscivo a capire questa differenza. Poi approfondendo un attimo mi sono reso conto che probabilmente c'erano più strade che potevano essere messe in programmazione, cioè in conferenza Stato-Regione, trovare i punti di accordo, gli elementi essenziali perché l'ANAS prendesse anche altre situazioni e tra queste, guarda caso, c'era anche il verrino, cosa che ho provveduto a fare immediatamente dopo aver sentito e aver rappresentato queste difficoltà alla maggioranza, all'aggiunta, ho provveduto a scrivere e quindi comunicare all'ANAS che c'è questa parte che collega Pescolangiano e tutta questa parte da Pescolangiano fino a tutta la parte alta tra Agnone, Belmonte, eccetera, che collega l'altissimo Molise e che è un'arteria che va trasferita all'ANAS e questo credo che lo faremo nella prossima programmazione 2019 che nella conferenza Stato-Regione verrà affrontata. Quindi abbiamo già delle interlocuzioni molto avanzate, ma le dico di più, al di là di quello che è successo all'inizio di agosto per la storia di Genova, il viadotto Morandi, io già avevo il 3 agosto scritto una nota all'ANAS chiedendo un incontro perché la conoscenza del territorio mi è particolarmente nota e sapevo di dover affrontare con l'ANAS situazioni di condivisione, di ragionamenti perché bisogna lavorare a braccetto insieme per cercare di capire come innanzitutto mettere in sicurezza il patrimonio che c'è e soprattutto cercare di fare un cronoprogramma di interventi rispetto a quello che sono le strade di trasferimento. Non dimentichiamo che abbiamo un'arteria che collega la bifernina alla trignina che passa per Trivento e che non voglio nemmeno citarla per come è disastrata e mi meraviglio come nel passato mai nessuno ha preso provvedimento su una strada di collegamento delle due statali, credo che farla ridurre in quel modo sia abbastanza grave. Dopo circa un anno siamo tornati nel Parco Giuseppe Ungaretti a Campobasso constatando un ulteriore peggioramento nonostante un servizio volontario dei sostenitori di Fareverde. Ci eravamo presi l'impegno verso gli abitanti della zona di far visita ciclicamente al parco dedicato a Giuseppe Ungaretti a Campobasso. Questo dopo la prima segnalazione di un degrado galoppante del luogo che era nato nel segno delle passeggiate dei residenti e di una zona destinata ai più fedeli amici dell'uomo quei cani che spesso soffrono le mura domestiche ed hanno bisogno di un luogo dove si possono ritrovare liberi di scorazzare. Ci siamo tornati dopo circa un anno e lo abbiamo trovato perfino peggiore dell'ultima visita. Solite erbacce che dominano il tutto rendendo lo scenario quasi simile ad una giungla disordinata. Soliti giochi per bambini assolutamente rotti, pericolosi e non adeguati soliti viali urgentemente da risistemare, solito paradiso per lucertole e insetti. Un tutto incredibilmente in forte degrado nonostante un intervento dei volontari di fare verde che ne hanno ripulito una parte. Un parco che si inserisce tra le brutture della città capoluogo di regione e che è indegno di portare il nome di uno dei più grandi poeti italiani. Ne parliamo con un cittadino residente in zona, il signor Antonio Ciamarra. Quando fu inaugurato il parco, qui vennero i sindaci, gli assessori, quindi tutti in bomba magna. Non solo, ma fu inaugurato anche un bau park là in fondo. Se lei vede io ho il cane. Però da allora poi manutenzione zero. Tagli d'erba sempre dietro pressioni da parte nostra e da parte di tutti quelli che portavano i cani. Quest'anno qui non è stata effettuata alcun taglio d'erba. C'è mai. C'è stata solamente l'associazione Fare Verde che su base volontaria è venuta e ha fatto lo spiazzetto qua dove ci stanno i giochini dei bambini. Questa è la situazione. Cioè è veramente una situazione intollerabile. Io penso che un parco così andrebbe tenuto in una certa considerazione. Anche perché è un bellissimo parco. Ci stanno i giochini dei bambini, ci vengono gli animali, ci stanno i secchi per accogliere le deiezioni degli animali. Quindi tutto ben fatto, ci sta un metro e mezzo d'erba e quest'anno quindi è una situazione del tutto particolare. Domani alle 18 sarà inaugurato il punto Sosta Camper a Casacalenda. Sabato alle 11 invece quello di Bonefro, entrambi realizzati dalle rispettive amministrazioni comunali su proposta e collaborazione del presidente del Camper Club Universo Pasquale Basilisco. A Montenero di Bisaccia, secondo appuntamento della rassegna Caffè d'Autore, il ciclo di incontri con scrittori molisani-abruzzesi finalizzato a stimolare i giovani alla lettura. Domattina alle 10 sarà presente Lorenzo del Sole, autore di un romanzo storico sul brigantaggio nel 1800 dal titolo La Maturanza Rossa. Il maestro Antonio Colasurdo terrà domani alle 19 alla Cattedrale di Campobasso un concerto per il 25esimo anniversario del grande organo a Cannes, situato dietro l'altare. L'ingresso è gratuito. Passiamo ora alle previsioni del tempo. Cielo generalmente coperto oggi sul Molise, dalla sera parziali schiarite sulle due province. Le temperature odierne sono previste tra i 16 gradi di Campobasso e la massima di 23 a Termoli. Calmo il mare Adriatico centrale, ventilazione dai quadranti orientali. Sulla regione domattina al cielo si presenterà variabile, valori climatici stazionari, i venti ruoteranno da nord-est. Calcio a 5 nazionale di serie B, Girone e D, Cus, Molise, Perugia e Real Dim, Chiamina dei Campobasso sono gli incontri in che interessano le due formazioni di futsal del Molise. Le gare previste per la seconda giornata del torneo si giocheranno sabato 13. Il Campobasso ospiterà domenica allo stadio di Contrada Selvapiana la Recanatese. I marchigiani sono reduci dal 2 a 0, inflitto al Pineto. Tra Recanatese e Rossoblumo, Lisani ci sono attualmente quattro punti di differenza. La svolta del match si ha in apertura. Dopo nemmeno due minuti di disimpegno di Rutians, sulla destra l'ispiratissime ritrovato Sivilla, mette al centro dove Pera anticipa tutti e segna la sua quarta rete stagionale. Passano 11 minuti e c'è il raddoppio. Mirabile la finta di corpo con la quale Sivilla, su as di Pera, sbilancia il difensore per poi mettere comodamente in rete. Sembra non esserci davvero partita. Rimessa laterale di Sivilla, Pera prova la botta sul secondo palo, fuori di un soffio. Ancora, assist al bacio di Sivilla per Pera, che prova la conclusione smorzata, forse con un braccio, da un difensore abruzzese. Gli ospiti timidamente provano a farsi vedere al 32esimo con Di Rocco, che va via a Monti, l'unico Recanatese in difficoltà, colpendo il palo esterno con un tiro cross. Il tecnico ospiti, inviperito per l'atteggiamento dei suoi, mischia le carte. Dopo un'ora esaurisce le sue sostituzioni, mette forze fresche e gli effetti iniziano a vedersi. Al settimo della ripresa, su corta respinta, Della Quercia ci abbatta fuori un buon pallone. Da applausi l'azione dei locali del quarto d'ora. Sivilla fugge sulla sinistra. Velo di Olivieri, che libera Lunardini, che però va troppo morbido sul pallone, permettendo a Fargione di bloccare a terra. Il Pineto prova a stringere i tempi e crea qualche difficoltà. Inzuccata di Marianeschi, bloccata da Piangerelli. Al ventiquattresimo sfiora il gol e l'ottimo Mataloni di giornata, schierato esterno di centrocampo, con un tiro deviato in corner. Il migliore degli ospiti è sicuramente Pietro Antonio, che crossa dalla destra. Assis di Esposito per l'incustodito Festa, che sciupa di testa da pochi passi. Pera alla mezz'ora si mangia un gol fatto, su Assis di Lunardini, spedendo a lato solo Soletto davanti al portiere. Non è da lui. La palla, per un finale trilling, ce l'avrebbe pedalino servito da Mancini, ma all'ex Castelfidardo, il teppin non riesce. Vince la Recanatese, con pieno merito e risultato rotondo, ma la chiara sensazione è che il meglio debba ancora venire. E prenderà il via domenica 14 ottobre il campionato di Serie C2 di rugby, che vedrà tra le otto squadre protagoniste anche la compagine Campobassana degli Ammers. All'esordio i casalinghi ospiteranno sul terreno del vecchio stadio Romagnoli Salernitani della zona orientale. Fischio d'inizio alle 15.30. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto. vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.